Estensione dell'anca, a terra. In appoggio sui gomiti, ed un solo ginocchio. L'altro ginocchio, leggermente sollevato dal suolo, ed arretrato, rispetto alla gamba di appoggio. Contrendo volontariamente, i muscoli del gluteo, eseguite un'estensione completa della gamba. Ritornate alla posizione di partenza. Vi consigliamo, di non riportare il ginocchio della gamba che lavora, in parallelo, con la gamba di appoggio, né di avvicinarlo al petto, come spesso consigliato nella versione classica, di questo esercizio. Questa modifica, vi permetterà di mantenere il grande gluteo, in tensione costante, per concentrare maggiormente il lavoro. Grazie per la visione! Grazie a tutti